Con l'appuntamento di Vallemosso-Biella di venerdì 7 giugno alle 16.30 in Sala Biagi via Roma 42 si conclude il primo ciclo di presentazioni del progetto La Città Sicura, promosso dalla consulta delle elette. Un piccolo manuale indirizzato in particolare alle donne per muoversi in città in tutta sicurezza. A settembre riprenderanno le presentazioni in altri comuni del Piemonte.